Adesso ho una canzone che abbiamo messo nel nostro repertorio, ma non è una canzone nostra e non è neanche tu sei una cosa grande ancora, ma è una gran bella canzone secondo noi, l'abbiamo scelta perché parla di un'epoca, ci racconta un'epoca che ha vissuto l'Europa e che per noi è molto importante, è un'epoca abbastanza lontana, intorno al 1100 quando in Andalusia c'era una cultura dell'incontro, c'era una cultura dello scambio, della convivenza e della toleranza tra religioni diverse, c'erano le tre grandi religioni monoteiste del Mediterraneo che riuscivano a dialogare e a tradurre l'uno nell'altro i saperi e ovviamente questo ha creato una grande possibilità di scambio, una grande possibilità di crescita, noi pensiamo che anche oggi il Mediterraneo abbia questa possibilità e pensiamo anche che alcuni segnali ci fanno intravedere che questa cosa sta per accadere, possiamo pensare quasi a un nuovo rinascimento mediterraneo che è quasi alle porte e quindi vi proponiamo questa canzone sperando che sia di buon auspicio, si chiama La Mabbada. La Mabbada 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 La Mabbada